ciao sono marina e ho partecipato all'evento non ci ferma nessuno con luca bete mi è piaciuto tanto e mi ha caricato di positività il messaggio che ha lanciato luca credo che di base è un messaggio che tutti dobbiamo professare e portare avanti perché avere un pensiero positivo e vivere la vita in modo positivo ti permette di raggiungere degli obiettivi o comunque arrivare a delle finalità che sono importanti per ognuno di noi quindi il bene genera bene e un pensiero positivo genera ulteriori cose positive